Bentornati amici di Obiettivo News, siamo qui oggi a Favria ospiti dell'Associazione Favria Giovane, con noi il Presidente Francesco Manfredi, un'associazione che ormai è attiva da tantissimi anni, dal 2007, con oltre 180 iscritti. Cosa ci puoi dire di questa grande associazione del territorio canavesano? L'associazione è nata nel 2007 ed è nata con l'intento di fare qualche cosa per il mondo giovanile. Abbiamo iniziato organizzando eventi e seate a tema e da lì piano piano è diventato un po' un punto di ritrovo per tutti i giovani sia di Favria che del canavese, all'interno della quale a un certo punto è nata una scuola di danza. La scuola di danza oggi ha ben 180 iscritti e all'interno della scuola di danza appunto ci siamo specializzati nei corsi di acrobatica aerea e di arti circensi. Abbiamo infatti qua con noi anche uno degli insegnanti di questa scuola di arti circensi, Davide Vignale, che ci parlerà nello specifico di che cosa si tratta questa disciplina, cosa fa, visto che comunque è una disciplina che non è ancora conosciuta sul nostro territorio. Ciao, sono Davide Vignale, sono un acrobata professionista. Insegno in questa associazione da qualche anno e si è subito creato un bellissimo gruppo che è riuscito a rimanere compatto anche durante il periodo del covid e delle quarantene grazie ad allenamenti online. Abbiamo poi dovuto cambiare sede, quindi abbiamo creato grazie a questo capannone le altezze necessarie e consone per l'acrobatica aerea e nel momento in cui abbiamo ripreso i ragazzi erano contentissimi, sono partiti in quarta e quando abbiamo saputo della possibilità di partecipare a dei campionati sportivi abbiamo subito iniziato a preparare delle routine che ci permettessero di partecipare a queste gare. Il primo campionato era un campionato tra i primi riconosciuto dal Comitato Olimpico Sportivo Nazionale e ci siamo subito qualificati comunque in modo molto molto positivo per le fasi nazionali dove siamo stati notati da delle responsabili di un altro campionato un po' diverso, questa volta un campionato legato alle arti performative dello spettacolo, quindi era compreso anche il canto, la danza e noi ci siamo presentati come partecipanti della disciplina del circo in generale e anche lì hanno avuto dei risultati direi ottimi, ma lascio magari la parola a loro. Qui infatti abbiamo due delle tre ragazze che si sono qualificate per i campionati internazionali che si terranno prossimamente, ce le vuoi presentare così poi parliamo direttamente con loro? Allora sì, abbiamo qui immediatamente alla mia destra Giulia Elena che ha 21 anni ed è medaglia d'oro di questo ultimo campionato nazionale e insieme a Giorgia Breviglieri, lì a fianco, andranno a rappresentare insieme ad altri acrobati e altri artisti la nazionale italiana nella fase europea di questo campionato. Quindi un risultato molto, un risultato importantissimo, qual è la tua esperienza? Cosa ti senti di dire anche alle ragazze e ragazzi che non conoscono questa disciplina ma che magari potrebbero avvicinarci? Allora, sicuramente l'esperienza delle gare è un'esperienza in cui ci si mette molto in gioco io poi personalmente non avevo mai fatto gare prima di sicuro c'è una differenza tra la gara che abbiamo fatto precedentemente e questa di Roma infatti quella precedente era molto basata sull'aspetto tecnico invece quella di Roma era basata sull'aspetto artistico infatti mi sono sentita molto più in connessione con gli altri ragazzi che facevano questo sport e che si erano messi in gioco anche nelle gare e con altre discipline perché c'era proprio meno competizione e si respirava un clima molto bello di condivisione soprattutto. Siete stati a Roma ultimamente ai campionati nazionali quindi un'esperienza che ti è piaciuta molto? Sì, sicuramente me la porterò dietro anche con un bel ricordo appunto per l'atmosfera che si respirava Tu Giorgio sei più piccolina della tua collega qual è stata invece la tua esperienza? Allora io mi sono trovata bene in entrambe le gare perché comunque in entrambe l'atmosfera di competizione non era troppo alta ma tutti erano molto carini, solidali e ognuno si augura sempre buona fortuna per l'esibizione però quella di Roma è stata diciamo vissuta meglio anche per l'atmosfera proprio nel complesso il fatto che fosse anche all'aperto faceva meno caldo quindi anche l'agitazione sono riuscita a controllarla meglio fortunatamente e quindi l'ho vissuta decisamente meglio Per i ragazzi che vogliono avvicinarsi a questa disciplina ragazzi e anche persone adulte cosa devono fare? Allora sì, la disciplina è aperta per tutte le fasce di età quindi dai sei anni a salire fino agli adulti allora prima di tutto bisogna avere tanta voglia di divertirsi quindi bisogna arrivare con lo spirito appunto di fare gruppo mettersi in gioco con la squadra e con se stessi e da lì iniziare a vivere un po' la realtà sia dei corsi che dell'associazionismo basta fare una tessera associativa che comprenda appunto l'iscrizione e il tesseramento dell'associazione dopodiché partecipare ai corsi che settimanalmente vengono proposti e scegliere la disciplina appunto che più piace all'interno del mondo dell'acrobatica ci sono diversi attrezzi e Davide magari in questo vi può spiegare magari qualcosina in più di me e quindi si può anche scegliere un attrezzo specifico e specializzarsi come hanno fatto le nostre allieve in un settore Davide siamo qua con questo tuo allievo, ce lo vuoi presentare? Sì, lui è Pietro Ghiglia anche lui ha partecipato al campionato regionale in Piemonte al quale si è classificato anche lui come primo classificato della sua categoria a tessuti per la fase nazionale che si è svolta all'Aquila Cosa ci farà vedere adesso? Ci sta dando in questo momento una dimostrazione di che cos'è l'allenamento sui tessuti aerei e è una disciplina sicuramente molto 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 intensa a livello sportivo molto intensa a livello sportivo ma anche strettamente legata al mondo dello spettacolo e quindi anche ogni performance preparatoria ad una gara viene poi collegata a un personaggio a un tema artistico, teatrale che gli artisti, che gli atleti scelgono insieme all'insegnante Infatti legato anche al mondo dello spettacolo si vede anche molto spesso in televisione anche nei vari corpi di ballo, nelle varie esibizioni di cantanti appunto dei ballerini o degli atleti che svolgono queste performance sui tessuti Sì esattamente, adesso sono meno conosciute, in questo momento sono più conosciute rispetto a qualche anno fa e vengono utilizzate tanto negli spettacoli televisivi o anche durante convention o eventi aziendali non solo più nel circo tradizionale Quante ore di allenamento ci vogliono per riuscire ad ottenere dei risultati? Allora, è un tipo di sport che devi fare con passione perché altrimenti non ti avvicini neanche Sicuramente più ore pratichi, più ore ti alleni e più ci sono i risultati In base alla passione di ognuno di loro devo dire che abbiamo poi creato un percorso di 3-4 volte a settimana e lo farebbero anche 5, 6, 7 E servono delle doti minime, atletiche per poter avvicinarsi a questo sport? Come in tutti gli sport sicuramente una dote, un talento naturale può essere d'aiuto ma non serve a niente se non c'è l'allenamento e se ci si allena tanto, se ci si impegna tanto i risultati ci sono senza dubbio Musica qui invece abbiamo Giorgia al cerchio che cosa ci puoi dire di questo attrezzo? un altro genere di attrezzo della corbatica aerea è appunto il cerchio che può essere ricollegato un po' a un attrezzo rigido come il trapezio come altri tipi di forme geometriche come il quadrato, pentagono o altri attrezzi simili c'è una tecnica completamente diversa da quella del tessuto e sicuramente molta scioltezza può essere d'aiuto in questo attrezzo difficoltà tecnica di questo esercizio? la difficoltà tecnica è l'interpretazione ancora di più che nel tessuto in questo caso e per il resto come dicevo prima tanto allenamento per quanti anni Giorgia pratica questa disciplina? Giorgia ha iniziato più o meno con tutto il gruppo quando abbiamo iniziato ad aprire il corso e da circa tre anni all'inizio del 2020 e da circa un'attrezzo di attrazione e da circa un'attrezzo di attrazione e da circa un'attrezzo di attrazione Giulia ha il tessuto cosa ci sta facendo vedere? Giulia anche lei campionessa in questo caso italiana di quest'ultimo campionato sportivo artistico ci sta facendo vedere una parte della sua routine che ha presentato in gara ai nazionali a Roma la difficoltà di questo esercizio? la grossa difficoltà di questo sport è l'intensità muscolare che devi avere tutto il tempo in cui sei per aria perché non è come uno sport come un movimento intenso ma breve come può essere il powerlifting come può essere altri tipi di sport di sollevamento pesi non è nemmeno uno sforzo semplicemente aerobico e prolungato come una maratona ma unisce le due cose quindi è davvero tanto intenso in ogni momento della performance la montagna suonata la montagna Grazie a tutti